E siamo allora ai campetti di Arezzo e Villaggio Amaranto con Gabriele Malvestiti che ne è il curatore dell'ufficio stampa e che ci ha fatto la cortesia di portarci a vedere che cosa succede. Avevamo parlato di queste scuole di calcio, qui dietro ce ne sono addirittura due di tipologie. Sì, ci sono gli allievi regionali e poi i 2001 che sono questi alle nostre spalle. Quindi queste squadre sono già formate, noi parliamo delle iscrizioni, libero l'accesso ancora c'è per i primi calci, mi dicevi, per i pulcini, cioè piccoli? Sì, piccoli amici e pulcini. Da quale età? Da 2009 fino in su, insomma. Fino a 2003, insomma. E quindi ci sono le iscrizioni, c'è un numero e uno viene qui. Viene direttamente per l'iscrizione, devono venire qui in via divisione Garibaldi 23, dal lunedì al venerdì dalle 4 alle 7 perché ci sono da compilare dei moduli. Quindi già è difficile trovare questa divisione Garibaldi perché vi posso garantire che l'accesso più rapido per venire qui a Villagio Amaranto... Sono un po' troppo gasati e che pensano di avere un futuro pagato dai figli. Lo spirito sportivo per il quale nasce una scuola di calci. Lo spirito sportivo è quello di far star bene i ragazzi, farli divertire e aiutarli a crescere. Questa è la filosofia fondamentale. Difficile poter ipotizzare un futuro calcistico, un futuro professionistico. Noi ne abbiamo avuti 3 o 4 che sono arrivati a professionismo, ma è una strada difficile. Quindi non deve essere l'obiettivo primario. L'obiettivo primario è quello di stare bene in un ambiente sano dove sono seguiti sicuramente bene e dove si sviluppa il processo di crescita di tutti i bambini. Diciamo che il principio decuberteniano, l'importante è partecipare, è estendibile oltre a quello che aveva la moglie che ci andava con tutti, anche a questo caso dello sport. Sì, sicuramente. Poi, se qualcuno... Scusa, fermiamo uno di questi ragazzi. Voi siete i regionali, no? Ciao, dai, una cosa me la devi dire. Cos'è che ti ha spinto a iscriverti a questa scuola di calci? Qualche anno che sono qui, prima ero a Zubiano. Eh, boh, gli amici forti. Lo sport, gli amici. E mica le veline, eh? No, non ci sono. Ah, non ci sono. Non ci sono ancora, l'ho decisato. Per le veline che livelli devono raggiungere? Eh, penso Serie A. Sì, eh? Sì, sì. Quindi noi siamo esclusi. Noi siamo esclusi, sicuramente. Va bene, Rita, si può ripiegare su di te? No? Non è un ripiego. Fate no sulla testa. Noi, Mau' L radicato. Siddaldato. Noi, passiamo a 12 бесchi. Ho Abb clipsato su di te? Grazie a tutti